Un nuovo inizio a Miano, quartiere dell'area nord di Napoli, per l'istituto scolastico Giovanni Pascoli, dove sono stati inaugurati alcuni locali destinati alla fruizione dei giovani studenti. Per l'occasione è intervenuto l'arcivescovo metropolita di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, il cui contributo in nome dell'Arcidiocesi è stato fondamentale per l'ammodernamento della scuola. Un'esperienza concreta di servizio e fiducia verso le giovani generazioni delle aree periferiche cittadine, che sempre di più escono dalle grinfie della Camorra per mostrare al mondo la loro funzione di fucina di talenti e benessere civico in ogni branca del sapere umano. Nelle parole del pastore di Carinaro, la speranza e gli obiettivi. Sono quei semi di speranza che mettiamo in un territorio che si sa conosciuto, è difficile, ma che comunque avranno delle porte a un futuro veramente di speranza, perché cominciare da un'età così tenera per educare, formare questi bambini, significa domani anche farli crescere con dei valori che possono costituire non solo personalmente per ognuno di loro una solida base, ma anche per contribuire alla società attraverso questi valori che hanno assimilato fin da bambini.